Notario d'Ambrosio, un'associazione di notai cattolici che serve a cosa? Forse a ridurre le spese? Questo indubbiamente è un miracolo sarebbe, perché le spese sono già così drammaticamente ridotte in quanto lo Stato che si prende il 95% di quello che si dà ai notai, che è una riduzione ulteriore, credo proprio che ci voglia direttamente l'assistenza di nostro Signore. No, è un'associazione che abbiamo fondato da poco, tre mesi fa, ad aprile l'atto costitutivo ad Assisi alla presenza del Vescovo di Assisi Monsignor Sorrentino, 230 notai hanno aderito subito, abbiamo fatto già il nostro primo convegno nazionale, sempre ad Assisi, eravamo già a 300, adesso abbiamo fatto l'altro giorno la prima riunione del Consiglio Direttivo per stabilire quali sono le linee di condotta nell'immediato futuro, mi hanno comunicato che siamo già quasi 400 notai, quindi in pratica un decimo dei notai esistenti sul territorio nazionale. È un'associazione, quello che vorrei dire è quello che non è, diciamo, non è un'associazione di carattere spirituale, non è un cammino spirituale, è uno strumento, uno strumento tradizionale come gli strumenti di azione cattolica che servono per fare qualcosa di buono, qualcosa di buono tra virgolette, che cosa? Obiettivi immediati dei signori notai, in questo Consiglio Direttivo per esempio abbiamo varato una serie di iniziative nelle carceri, nelle parrocchie, negli ospedali, obiettivi indiretti abbiamo ad esempio l'obiettivo di essere presenti nelle scuole, nell'università per far capire l'importanza, la priorizzità, l'apporto di un consulente super partes, che è una cosa ben diversa da un avvocato con tutto il rispetto per l'importanza della professione dei cugini. E poi magari dare un tocco di umanità in più ad una professione che uno vede sempre come una fredda esecuzione di un atto, no? Sì, questo è vero anche se è sbagliato perché ovviamente tutti i notai si portano ciascuno il loro carattere. Io dico sempre vincere il concorso per notaio significa selezionare quello più bravo, più preparato, che ha sgobbato di più e perché no anche più fortunato.